Buongiorno, sono Maria Rita Minciardi, sono una ricercatrice NEA, lavoro presso il centro NEA di Saluggia nel laboratorio di biodiversità e servizi ecosistemici. Mi occupo da anni di ecologia fluviale, in particolare di biomonitoraggio e di bioindicazione e caratterizzazione dei corsi d'acqua. I fiumi e comunque i corsi d'acqua in genere sono un'entità ecosistemica molto particolare in costante dinamismo, in costante cambiamento. Si parla infatti di equilibrio dinamico. Volendo leggere il fiume in termini più squisitamente fisico-chimici, vediamo che è un sistema aperto caratterizzato alla presenza di acqua prevalentemente ma non esclusivamente fluente, che trasporta, ed è un sistema che trasporta da monte a valle sedimento inorganico, nutrienti disciolti e particolati e sostanza organica. Ci sono zone montane in cui è prevalente l'azione di erosione, zone pedemontane nella porzione centrale del corso d'acqua in cui è prevalente la funzione di trasporto e zone planiziali in cui il corso d'acqua è nella sua fase terminale di sviluppo in cui è prevalente la funzione di deposito. L'idromorfologia del corso d'acqua è una scienza complessa che caratterizza e sistematizza anche le varie tipologie di tratti di corsi d'acqua. Passando a una visione non solo chimico-fisica e morfologica ma anche biologica, è chiaro che le varie tipologie di sviluppo che il corso d'acqua attraversa lungo il suo corso da monte a valle influenzano fortemente le comunità che vanno a insediarsi nei vari tratti del corso d'acqua. La caratteristica che in qualche modo collega tutte le comunità che si trovano lungo i corsi d'acqua è che sono comunità animali e vegetali specificamente adattate a tollerare fattori ambientali estremi particolarmente limitanti per lo sviluppo della vita e comunque di un ciclo vitale favorevole per le varie comunità. Per cui solo alcuni organismi adattati a tollerare questi fattori ambientali estremi possono insediarsi. Per descrivere correttamente dal punto di vista ecologico un corso d'acqua bisogna fare riferimento alla sua multiforme dinamicità che si esplica in una complessa multidimensionalità. Innanzitutto ci si deve soffermare sulla zona azione longitudinale nel senso che lungo il suo sviluppo da monte a valle appunto in funzione di fattori che sono la pendenza, la portata, la tipologia di substrato ma anche le condizioni climatiche si passa da una zona che viene chiamata solitamente eukrenon o comunque tutte le zone di krenon a delle zone di eritron e poi delle zone di potamon. Le comunità e le tipologie di organismi che si insediano nelle varie porzioni lungo lo sviluppo del corso d'acqua sono differenziate. Una delle zone azioni che più frequentemente si trovano nei libri di testo di ecologia è quella che riguarda la fauna ittica e qui vedete per esempio una rappresentazione classica che dimostra come si passi da zone in cui in realtà è totalmente assente la fauna ittica a zone in cui è presente una fauna ittica sostanzialmente a Salmonidi verso poi zone in cui è presente una fauna ittica sostanzialmente a Ciprinidi. È importante comprendere che il fiume, comunque il corso d'acqua, non è solo il canale principale ma è sostanzialmente un ecosistema complesso anche spazialmente e il limite esterno dell'ecosistema fluiale non è dato dal limite a cui arriva l'acqua per così dire ma è dato dall'estensione dell'area di influenza delle acque. Le acque condizionano le aree circostanti sia perché in qualche modo le rendono soggette a una periodica sommersione oppure perché le zone circostanti sono influenzate dalle acque di falda subaffioranti. Quindi in realtà quando parliamo di ecosistema fluiale si deve parlare complessivamente del corridoio fluiale e qui vedete una rappresentazione classica in cui sostanzialmente la floodplain, cioè la piana inondabile, è ancora una porzione di territorio che è interessata dal dinamismo, talvolta, raramente, ma soprattutto dall'influenza anche della falda subaffiorante da parte del corso d'acqua. Oltre alla zonazione longitudinale esiste ed è importante considerare la zonazione laterale trasversale nel senso che a partendo dalla parte centrale del canale principale, da quello che viene chiamata la linea di Talveg e allontanandosi rispetto alla parte centrale del canale principale, l'azione dei fattori ecologici cambia in funzione dell'allontanamento dal canale principale e quindi cambia la presenza senza e l'eventuale entità della sommersione, la velocità dell'acqua, la tipologia di substrato, la presenza dei nutrienti e la luminosità. E anche in questo caso, così come da monte a valle esiste una differenziazione delle comunità che si insediano, anche partendo dal centro del corso d'acqua verso la periferia del corso d'acqua, le diverse comunità che si insedono nelle varie porzioni del corridoio fluviale sono caratterizzate da quello che viene chiamato in ecologia, da optimum ecologici diversi, ovvero da preferenze e da gradi di tolleranza diversi. Quello che si nota è che comunque si ha un incremento della complessità anche trasversale, passando dalle porzioni più diciamo di creno, più in alto dei corsi d'acqua andando verso le porzioni planiziali. Un esempio che riguarda la vegetazione della zonazione laterale è questa, cioè è possibile riconoscere delle formazioni vegetali che si insediano tipicamente nell'alvio di magra, che sono le macrofite acquatiche e palustri, poi nei greti ci sono formazioni a erbacee, pioniere di greto, per arrivare poi a zone meno disturbate dalla sommersione, dal rimaneggiamento del corso d'acqua, dove sono presenti già formazioni arbustive e poi formazioni arboree. Vedremo meglio in un'altra slide questo ragionamento. Una cosa interessante da sottolineare è come l'influenza del corso d'acqua sul territorio circostante cambia in funzione della tipologia di corso d'acqua e in funzione della tipologia del territorio. Qui ad esempio in un ambito montano, in una zona in cui il corso d'acqua si presenta, come si suol dire, incassato o più correttamente dal punto di vista morfologico confinato, il corridoio fluviale, cioè l'area di influenza del corso d'acqua rispetto al territorio circostante è limitato e quindi le formazioni strettamente legate al corso d'acqua, le formazioni vegetali, sono piccole, si insediano in una fascia molto ristretta e per esempio qui vediamo il saliceto arbustivo e delle formazioni a erbe e i grofile di margine, mentre sulle pendici ci sono formazioni arboree, aconiferi, in questo caso ad esempio un lariceto, che non sono legate a quella che è il dinamismo ma anche l'influenza del corso d'acqua. In un tratto invece planiziale il corso d'acqua amplia enormemente la sua area di influenza rispetto al territorio circostante e si ha un corridoio fluviale molto complesso, come in questo caso in cui si può notare la presenza di un alveo principale, di bracci secondari del corso d'acqua ed eventualmente anche di quelle che sono le cosiddette backwaters, cioè l'anche o corsi d'acqua laterali rispetto al corso d'acqua e questo complesso di ambiti comunque comandati determinati dal corso d'acqua dà luogo a una differenziazione di formazioni vegetali molto complessa e molto diversificata. In questa situazione ogni comunità si insedia laddove vi è il suo optimum, da un punto di vista della sommersione, dal punto di vista della ricorrenza di fenomeni di dinamismo, da un punto di vista della tipologia di substrato. Queste considerazioni sono ormai note da molto tempo, basti citare ad esempio il fatto che esiste una classificazione dei sistemi fluviali, ma anche lacustri, ma anche di zone umide americana, molto nota, in questo caso cito appunto la River in System della Cowarding Classification. Come dicevo prima, noi stiamo leggendo il corso d'acqua in termini di schemi semplificati, ma in realtà non si comporta in maniera assolutamente prevedibile anche in queste sue variazioni da monte a valle, nel senso che non possiamo pensare che in montagna esistono solo tratti confinati. In realtà non è vero, nel senso che anche nei tratti montani, nelle parti diciamo apicali del corso d'acqua, lungo lo sviluppo longitudinale del corso d'acqua, si ha l'alternanza di piani inondabili e quindi di piccole porzioni in cui il corso d'acqua non è confinato. Passiamo a un'altra tipologia di zonazione presente, che è quella che spesso si scorda, la zonazione verticale. In realtà appunto la zona iporreica di subalveo dei corridoi fluviali è una sede importante di meccanismi sia fisico-chimici sia anche biologici molto rilevanti. Ultima da considerare è la zonazione temporale. I corsi d'acqua sono oggetti dinamici che cambiano nel tempo, nello spazio. Qui vedete alcune rappresentazioni che dimostrano da un lato come la localizzazione del corso d'acqua, in questo caso vediamo il Po, cambia notevolmente nel corso degli anni, mentre invece vedete anche nel disegno come zone a livello puntuale, a livello di area meno vasta e localizzata, si possono leggere sul territorio delle evoluzioni, delle formazioni che per esempio in questo caso dimostrano come da una zona di acque diciamo magari lentiche o parzialmente fluenti si passi abbastanza velocemente a una chiusura e a una formazione di bosco e questo può avvenire contemporaneamente invece alla riapertura di zone a formazioni legnose sempre lungo un corso d'acqua che ha conservato il suo dinamismo naturale. Quindi riassumendo abbiamo quattro gradienti spaziali temporali, longitudinale, laterale, verticale e appunto temporale. Abbiamo a che fare quindi con un'entità complessa in cui i fattori orografici, climatici, geologici determinano un andamento delle portate caratteristico che è caratteristico di ogni corso d'acqua, determina una certa tipologia di substrato che si succede, si complica e si mosaica da monte a valle, determina un chimismo delle acque. Volendo semplificare da un punto di vista della lettura ecologica di questi territori, possiamo distinguere tra un ambiente schiettamente acquatico che è quello degli ambiti e delle formazioni delle comunità che sono quasi costantemente diciamo in ambito acquatico e un ambiente ripario che è quello in cui possono essere, si alternano periodi di sommersione e periodi di emersione. Come si diceva prima, le comunità che colonizzano e si insediano in questi ambienti hanno delle caratteristiche, degli specifici adattamenti che rendono a loro possibile insediarsi in questi ambienti estremi e sono adattamenti morfologici, fisiologici, riproduttivi, quello che per alcune specie potrebbe essere disastroso, per alcune specie adattate diventa invece un benefit. Uno per tutti, i salici sono specie legnose che non solo tollerano la sommersione, non solo sono particolarmente elastici, ma nel caso di fratturazione approfittano della situazione per riprodursi efficacemente tramite talea. In questo complesso ecosistema ovviamente sono presenti reti trofiche molto complesse e che sono distinguibili tra l'altro tra reti trofiche come al solito di pascolo e di detrito e che riguardano sia il territorio circostante e mettono in comunicazione il territorio circostante con quello che è l'ambiente strettamente acquatico. Le comunità vegetali presenti vanno da organismi di pochi organismi microscopici fino a formazioni a muschi, a angiosperme acquatiche per arrivare fino a formazioni di legnose, arbore ed arbustive e così anche le comunità animali sono estremamente diversificate e alcune sono elettivamente presenti nell'ambito di area vasta proprio esclusivamente nei territori fluviali. L'ecologia dei corsi d'acqua è una scienza relativamente recente nel senso che i grandi capisaldi dell'ecologia fluviale sono degli anni 80, della fine degli anni 70, tra gli anni 70 e gli anni 90, in particolare appunto per richiamare alcuni dei capisaldi più importanti dal punto di vista dell'ecologia fluviale. Ricordiamo innanzitutto la considerazione dell'esistenza di fenomeni di spiralizzazione dei nutrienti, nel senso che un ecosistema aperto e dinamico come quello del corso d'acqua fa sì che al suo interno i fenomeni di mineralizzazione e di riciclo della materia organica non avvengono in posto ma avvengono durante il trasporto ad opera della corrente per cui si può anche caratterizzare dal punto di vista della tipologia di ciclizzazione le diverse tipologie di corso d'acqua. Un altro caposaldo fondamentale dell'ecologia fluviale è il concetto del River Continuum Concept per cui tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 90 si afferma una visione che vede i corsi d'acqua costituiti da un continuum secondo un gradiente per cui tutti i processi che avvengono a valle sono connessi, strettamente connessi con ciò che avviene a monte ma non solo ed è possibile individuare per ogni porzione del corso d'acqua la prevalenza di certe tipologie di organismi per esempio raccoglitori, trituratori, raschiatori o predatori in funzione della caratteristica del tratto di corso d'acqua che stiamo considerando. Altro caposaldo teorico dell'ecologia fluviale è quello del Food Pulse Concept che di fatto afferma come la periodica sommersione degli ambiti ripari da parte del corso d'acqua è in realtà un fenomeno che accresce enormemente la funzionalità e l'efficienza produttiva e metabolica del corso d'acqua stesso e l'alternanza quindi di magre e piene è un fortissimo driving force di produzione, di consumo e di decomposizione ed è alla base di fondamentali meccanismi di autodepurazione del corso d'acqua che in qualche modo sono anche importanti per l'utilizzo dei territori fluviali e comunque circostanti i corsi d'acqua da parte del genere umano. Per descrivere la complessità ecologica degli ambienti fluviali si fa appello a un modello ecologico denominato del mosaico dinamico. Diciamo che questi sistemi complessi multidimensionali che sono caratterizzati da una dimensione laterale, longitudinale e verticale ma anche temporale, di fatto costituiscono una sorta di puzzle tridimensionale che è composto di tessere di un numero limitato di tipologie ma che cambiano nel tempo in funzione di quello che è il dinamismo fluviale. Per spiegarci, laddove c'è una foresta riparia, una piena eccezionale può entrare e riazzerare la comunità e portare la tessera formazione riparia e farla ritornare indietro a una tessera ambiente acquatico che magari si trova in una zona di lanca laterale che col tempo si interrerà, passerà attraverso una zona a elofite dominanti, cioè a erbe palustre per poi ritornare di nuovo a una tipologia a foresta riparia. Quindi una sorta di puzzle che muta forma nel tempo e nello spazio. Questo mosaico dinamico non è solo funzionalmente adattato e adatto a tollerare il dinamismo fluviale ma è conservato da tale dinamismo nel senso che la resilienza e la capacità di tollerare questi impatti seppur naturali, costanti, generati dal dinamismo del corso d'acqua è mantenuta solo se è mantenuta la complessa contemporaneità delle diverse comunità presenti. Quindi solo il passaggio periodico dell'acqua, secondo una periodicità complessa che tra l'altro è tipica di ogni corso d'acqua e che è definibile in termini di spettro delle portate consente di mantenere l'ecosistema fiume, quell'ecosistema fiume, integro e funzionante nel tempo. Quindi per mantenere ambienti ecologicamente coerenti le comunità che li occupano devono essere periodicamente soggette al dinamismo fluviale, seppur a diversi livelli di intensità variabile. Quindi la funzionalità degli ecosistemi fluviali e con la funzionalità anche la possibilità di utilizzare tali territori e le risorse presenti in tali territori da parte dell'uomo si conservano solo conservando il dinamismo fluviale e conservando quindi questo complesso mosaico che ovviamente è più complesso nelle tratti planiziali e meno complesso nelle porzioni apicali dei corsi d'acqua che muta nel tempo e nello spazio e che mantiene le caratteristiche del corso d'acqua. E' importante quindi capire che nell'ambiente fluviale il disturbo è la vita e la continuazione delle caratteristiche, della funzionalità e della diversità dell'ambiente fluviale. Solo l'azione di disturbo, l'azione meccanica, dinamica e idraulica del corso d'acqua consente il mantenimento di questo disturbo che consente il mantenimento di tutte le formazioni presenti. Al contrario l'arginatura, la banalizzazione che può avvenire sia attraverso la regimazione del corso d'acqua e la costrizione all'interno di spazi predefiniti ma la banalizzazione sia anche con l'asportazione di acqua e soprattutto con la banalizzazione di quello che è l'andamento naturale delle portate, tutto ciò fa perdere le caratteristiche di diversità di questo mosaico di habitat che garantisce la funzionalità del corso d'acqua. In tutti i territori, sia quelli a elevata naturalità, sia quelli a elevato tasso di antropizzazione, i corsi d'acqua hanno un'importanza fondamentale per il mantenimento della biodiversità e anche, soprattutto, non è assolutamente secondario, per il mantenimento della reticolarità ecologica del territorio. A cosa serve la biodiversità? La biodiversità non è solo un concetto e un obiettivo a cui dobbiamo finalizzare molte delle nostre, come dire, azioni di tutela e di gestione dell'ambiente perché è eticamente corretto mantenere la biodiversità a tutte le scale e soprattutto a scala planetaria. Sicuramente è importante anche l'aspetto etico della tutela della biodiversità ma soprattutto la biodiversità è garanzia del mantenimento della resilienza degli ecosistemi. La resilienza è la capacità di recuperare rispetto all'azione di pressioni ambientali e quindi gli ecosistemi all'interno dei quali o al margine dei quali noi viviamo hanno bisogno di mantenere il loro tasso di biodiversità per mantenere la funzionalità, anche per noi, anche per poter utilizzare i servizi ecosistemici che comunque producono. La strategia nazionale per la biodiversità del MATM recita come la biodiversità e i servizi ecosistemici che complessivamente sono il nostro capitale naturale devono essere conservati, valutati e per quanto possibile ripristinati sia per il loro valore intrinseco, sia perché devono continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano, nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale. Quindi la tutela della biodiversità, la tutela della resilienza degli ambienti naturali è qualcosa che ci garantisce di poter continuare a utilizzare gli ambienti naturali e le risorse naturali per il nostro benessere nel nostro territorio, nel nostro paese, nel nostro pianeta. Di fatto, quindi è importante considerare gli habitat e l'applicazione della direttiva habitat ha di fatto fatto coincidere l'habitat con le biocenosi vegetali che li caratterizzano. Gli habitat devono essere considerati come una sorta di arche che in qualche modo garantiscono la tutela e la sopravvivenza e la resilienza di tutte le funzioni ecosistemiche oltre che delle specie ombrello, delle specie target e delle specie nel loro complesso. Andando a focalizzare un attimo l'attenzione sulle cenosi vegetali che sono presenti lungo i corsi d'acqua dobbiamo considerare come il mantenimento di queste comunità è importantissimo in quanto si tratta di cenosi chiave dal punto di vista funzionale e costitutivo non solo perché garantiscono buona parte delle funzionalità del corso d'acqua ma anche perché in qualche modo addirittura uniche tra le cenosi presenti influenzano lo stesso dinamismo fluviale. In particolare abbiamo già detto come gli organismi che vivono negli ambienti fluviali sono particolarmente adattati e selezionati da milioni di anni di evoluzione per tollerare i drastici fattori limitanti che sono presenti tanto è vero che la vegetazione, soprattutto quella a angiosperme superiore la vegetazione di erbacee e di legnose presente lungo i corsi d'acqua viene chiamata vegetazione a zonale per distinguerla da quella a zonale del territorio circostante che è determinata sostanzialmente da fattori climatici mentre quella presente nei territori fluviali è determinata sostanzialmente da fattori edafici ovvero in particolare dal dinamismo e dalle caratteristiche che determina sul territorio il corso d'acqua. Gli habitat di ambienti fluviali sono in uno stato di conservazione molto critico alla scala del nostro paese questo è per esempio quanto si evince dall'ultimo rapporto sullo stato del capitale naturale del Ministero dell'Ambiente nel 2017 dove si può riscontrare come per esempio i boschi igrofili siano in tutte le regioni biogeografiche in uno stato di conservazione estremamente critico il libro rosso degli habitat d'Italia di qualche anno fa il WWF pone gli habitat fluviali in una situazione di criticità abbastanza conclamata in molta parte del territorio nazionale e la strategia sulla biodiversità dell'Unione Europea fino al 2020 incentra sulla tutela degli habitat fluviali una parte delle azioni per la tutela della biodiversità nel nostro continente. Degli ultimi anni sono molte pubblicazioni anche disponibili in rete a cui poter fare riferimento per una caratterizzazione degli habitat nel loro complesso ma anche in particolare per quelli che riguardano gli ambienti fluviali che sono spesso poco conosciuti e poco rilevati a scala del nostro territorio nazionale passiamo a un altro aspetto fondamentale che caratterizza gli ambienti fluviali allora gli ambienti fluviali come abbiamo avuto modo di descrivere sono ambienti che sono soggetti a un dinamismo molto spinto e in qualche modo il corso d'acqua stesso favorisce le specie che sono dotate di caratteristiche di pionericità cioè che riescono a ripartire su un ambiente che sostanzialmente è stato azzerato e totalmente ringiovanito dal corso d'acqua purtroppo queste caratteristiche di pionericità che sono tipiche delle piante che colonizzano questi ambienti sono anche tipiche di alcune piante che sono le specie esotiche invasive che di fatto si trovano a essere fortemente favorite nella colonizzazione degli ambienti fluviali non tutte le specie esotiche cioè non native dell'ambiente in cui si sta esaminando e caratterizzando la vegetazione dicevo non tutte le specie esotiche sono dannose noi viviamo di specie esotiche basti pensare alle patate o ai pomodori o al mais ma ci sono una quota limitata di specie esotiche che quando arrivano in un territorio diverso da quello loro nativo si comportano in maniera molto aggressiva trasformando completamente gli ambienti perché non sono soggetti al tipo di controllo biologico a cui sono soggette le altre specie sono fortemente favorite negli ambienti fluviali questo è un fenomeno che raggiunge livelli preoccupanti di criticità le specie in particolare le specie vegetali invasive hanno un'elevata efficienza riproduttiva una efficientissima riproduzione vegetativa un'elevata capacità stolonifera e quindi hanno un comportamento appunto simile a quello che hanno le specie pioniere invece tipiche di ambiente fluviale e possono una volta arrivate devastare completamente e trasformare interi ecosistemi fluviali in questa foto in particolare si vede la specie Sicios angulatus che è una specie arrampicante che riesce a soffocare quasi completamente anche alberi imponenti come possono essere i salici bianchi o con molta facilità le specie arbustive l'esame a scala nazionale del fenomeno della diffusione delle specie vegetali invasive è fortemente rilevante ed è censito e caratterizzato e documentato in numerose pubblicazioni queste sono le pubblicazioni più autorevoli sono state censite oltre 1023 specie vegetali all'octone e di queste solo 162 sono invasive ma la presenza di specie invasive è documentata a scala anche regionale per alcune regioni d'Italia ma anche a scala europea l'importanza di questo fenomeno dal punto di vista ecologico è veramente rilevante tanto è vero che negli ultimi anni dal 2014 sono state emanate delle norme di livello europeo che sono dei regolamenti che sono poi diventati attuativi a livello nazionale per cui è stata definita una lista di specie invasive di rilevanza unionale vegetali ed animali ed è rilevante sottolineare come tra le specie vegetali la maggioranza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale è proprio presente in ambienti acquatici e ripari da segnalare come ormai da alcuni anni la regione Piemonte ha definito attraverso la formazione di un gruppo di lavoro che fa riferimento a università enti scientifici e anche associazioni professionali e dipendenti pubblici delle black list articolate in liste di gestione di eradicazione di allerta che in qualche modo possono dare indicazione da un punto di vista gestionale su come trattare le specie vegetali esotiche invasive sul territorio regionale qui vedete il link a cui è possibile accedere anche scaricare una serie di schede che riguarda le varie specie prese in considerazione tra le specie più diffuse in ambiente fluviale ci sono le falloppie qui la falloppia japonica che è quella specie di pianta detto anche poligono del Giappone è una pianta che sostanzialmente è erbacea ma ha un portamento arbustivo c'è l'impatience che è una pianta molto pericolosa perché è di origine malayana e quindi in grado di arrivare anche a quote molto elevate vedete in basso un'altra foto del Sicios angolatos ma vi sono anche specie che sono utilizzate a scopo ornamentale come in questo caso il Partenocissus quinquefoglie che viene utilizzato perché produce queste colorazioni paesagisticamente architettonicamente molto interessanti durante la stagione autunnale ma che riesce a soppiantare completamente la flora di sottobosco dei boschi ripari e anche di altre tipologie di boschi qui un'altra immagine dell'impatience grandolifera e poi altre piante rilevanti agli ambienti fluviali sono la solidago e con i suoi fiori viola rosaceis la budleia davidi detta anche albero delle farfalle che ancora adesso viene venduta abbondantemente nei vivai e che in alcuni nostri fiumi ha totalmente soppiantato la vegetazione che invece dovrebbe essere presente e dell'estate del 2016 il caso dell'infestazione del miriophilum acquaticum sul Po a Torino si tratta di una pianta di origine sudamericana che ha una capacità di diffusione e di espansione e di riproduzione vegetativa straordinaria e che con l'aiuto di associazioni scientifiche di gruppi di lavoro sulle specie esotiche della regione Piamonte il comune di Torino la regione la città metropolitana si è agito per contenere e per lavorare per l'eradicazione puntuale e il contenimento e il controllo dell'infestazione basti dire che in molte parti del Nord America e anche dell'Europa la ripulitura di interi corsi d'acqua da questa pianta esotica invasiva e infestante costa decine di migliaia di euro e quindi è importante anche non solo per la biodiversità ma anche per l'utilizzo antropico delle risorse contenere la diffusione di queste specie complessivamente i territori fluviali sono stati negli ultimi 50 anni in primo luogo oggetto di imponenti opere di artificializzazione che da un lato hanno consentito l'uso antropico dei territori fluviali ma dall'altro hanno fortemente penalizzato la funzionalità di questi ecosistemi e la diciamo che la pressione che agisce e genera il maggiore impatto è quella dell'erosione dei territori di pertinenza fluviale con l'occupazione da parte di attività antropiche anche laddove voglio dire queste attività antropiche non sono collettivamente così di valore e questo determina la perdita di naturalità morfologica dei territori fluviali e soprattutto la sconnessione tra fiume e fascia perifluviale che in qualche modo è indotta anche dall'alterazione morfologica all'alveo principale un'altra minaccia sostanziale è quella del costante aumento del prelievo di acque che non solo in primo luogo diminuisce la capacità di diluizione ma soprattutto determina l'artificializzazione di quell'andamento delle portate che abbiamo detto è ragione fondamentale determinante importantissimo per il mantenimento dell'ecosistema fluviale così com'è senza una naturale variabilità delle portate il corso d'acqua si banalizza e perde tutti quegli ambienti che gli consentono di continuare a essere quel mosaico dinamico tridimensionale che abbiamo visto essere l'unico che garantisce la funzionalità del corso d'acqua altra minaccia fondamentale molto importante abbiamo parlato in primo luogo delle specie esotiche invasive vegetali ma le specie invasive sono anche animali e molta parte dei nostri corsi d'acqua ha una fauna ittica totalmente devastata e distrutta dalla presenza di specie esotiche che sono state immesse a scopo alieutico sostanzialmente che a questo punto hanno snaturato gli equilibri delle comunità presenti che cosa si può fare è importante fermare il diffondersi di modificazioni del territorio fluviale in senso irreversibile cioè dobbiamo smettere di continuare a artificializzare i territori fluviali e piuttosto far recuperare una condizione di naturalità idromorfologica ai corsi d'acqua non solo perché in questo modo riacquistano la loro funzionalità complessiva ma anche perché è l'unico modo per migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua stessi è importante rinaturalizzare e restituire integrità anche al regime dei flussi per cui non si può pensare di continuare a avere prelievi che lasciano solo un DMV un deflusso minimo brutale fisso ma si deve parlare di deflusso ecologico che è qualcosa che mima in maniera più naturale in qualche modo più da vicino il regime lo spettro delle portate naturale e bisogna rinaturalizzare anche incrementando l'estensione delle formazioni acquatiche e riparie nei territori fluviali ma per facendo ciò e facendo qualsiasi intervento lungo i corsi d'acqua bisogna fare attenzione a non fare danni e cioè non favorire più di quanto non siano già favorite le specie vegetali esotiche invasive ma anche non solo le vegetali e quindi operare con interventi di riqualificazione ripristino e manutenzione conservativi con accuratezza di cantiere e anche inserendo e agendo impiantando specie a totale coerenza ecologica quindi sostanzialmente si potrebbe riassumere che per garantire le funzioni e i servizi ecosistemici che i corsi d'acqua forniscono bisognerebbe lasciare l'acqua al fiume e lasciare il territorio fluviale al fiume almeno un po' di più e prelevare sia di territorio sia di acqua solo quanto è sostenibilmente possibile cioè solo quanto possiamo continuando però a garantire la funzionalità dell'ecosistema e dei territori al massimo vorrei concludere citando una frase del padre dell'economia capitalistica moderna cioè di Adam Smith che però sottolinea come non sempre a tutto ciò che è molto utile viene attribuito un gran valore e non tutte le cose che hanno un gran valore sono utili cosa vuol dire lo dice l'immagine quando acqua pura da bere ce n'è a disposizione nessuno gli attribuisce valore e invece andiamo a ricercare i rubini o le pietre preziose che invece sono rare ma se non dovesse esserci più acqua pura noi non ce ne faremmo niente dei rubini e quello che dovremmo andare a cercare sarebbero fonti disponibili di acqua pulita di acqua disponibile e di risorse di territorio disponibile anche per le nostre attività questo vuol dire che forse bisogna cominciare a pensare ai nostri territori fluviali nel loro complesso come a parte rilevante del nostro capitale naturale e qualsiasi economista o qualsiasi massaia sa che il capitale non si intacca che innanzitutto bisogna preservare ciò che ci consente di utilizzare un territorio e di vivere in quel territorio con una quota di benessere importante per la nostra specie in primo luogo grazie mille per l'attenzione è stato solo un breve ragionamento che spero non sia stato troppo noioso sono disponibile per contatti e per ulteriori ragionamenti grazie mille grazie mille